Oggi abbiamo nel reparto adulti una popolazione che per la metà, 50%, è o sovrappeso o obesa, quindi ha un peso che è superiore a quello compatibile con una buona salute. Per quanto riguarda invece i bambini, i bambini hanno una percentuale 1 su 3 è obeso, 1 su 3 è sovrappeso e 1 su 4 è obeso e quindi abbiamo purtroppo una generazione prossima, futura, che avrà più obesità di quella attuale perché noi sappiamo che un bambino obeso rimane a 80% di probabilità di rimanere obeso da adulti. Il problema dell'obesità è che non è recepita come una malattia e quindi è affrontata e curata e soprattutto prevenuta ma è vissuta come un problema estetico e la carenza di una presenza della sanità pubblica su questo argomento fa sì che i falsi profeti delle diete si inventino le cose più impensate perché la gente chiede di rire ma non per stare meglio ma per sentirsi più belli. L'obesità crea tutta una serie di patologie, pensi che il 90% dei casi di diabete sono dovuti e legati all'obesità, 55% dei casi di cardiopatie sono legati all'obesità, il 35% dei tumori sono legati all'obesità. Quindi prevenire l'obesità significa ridurre queste malattie e queste malattie costano. Ridurre l'obesità significa risparmiare nella cura e nell'assistenza ai malati di tutte le patologie causate dall'obesità. Quindi oggi non far niente costa molto di più che fare qualcosa per prevenire questa patologia.